Tante idee ci sono state in questi ultimi anni, però questo è quello che ha avuto il bene procido ministeriale direttamente dal Ministro. Quindi partiamo e vediamo adesso con il nuovo Governo di continuare quello che era già stato deciso anche con tutti gli apparati ministeriali. Si chiama Politecnico delle Arti, progetto pilota che vedrà insieme Accademia di Belle Arti di Firenze, il Conservatorio Luigi Cherubini e l'ISIA, l'Istituto Superiore per l'Industria e l'Artigenato e il Design. Un vero e proprio polo delle eccellenze artistiche unico in Italia. Noi faremo una sorta di federazione e questa federazione dovrà progettare insieme per dare maggiori opportunità ai nostri ragazzi, ai ragazzi che vengono un po' da tutte le parti del mondo, oltre ai nostri italiani. E quindi è molto importante che noi facciamo un po' un lavoro comune in modo da utilizzare risorse e risparmiare, ma nello stesso tempo valorizzare e dare un valore aggiunto proprio a quella che è la nostra collaborazione. Il Politecnico si muoverà sulla scorta della riforma che risale ormai al 1999 e che prevede la costituzione di un Politecnico delle Arti che mette assieme le tre istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale. E' molto importante anche perché andiamo a occupare uno spazio al centro della città che è in piazza Brunelleschi e con l'apporto poi di un finanziamento della fondazione Cassa di Risparmio. Abbiamo pensato che il nostro contributo permanente potesse essere quello di aiutarli a trovare la casa e quindi a contribuire a far sì che quest'idea non sia un'idea soltanto di questa squadra lungimirante, che possa essere la casa di tutti, magari anche un pezzettino, diciamo così, qualcuno si ricordi che è anche un pezzettino di casa della fondazione, ma perché conta il risultato. Quanto è importante l'interdisciplinarietà finalmente con una sua sede? E' importante nel settore AFAM che passi il concetto della multidisciplinarietà, quindi della capacità di offrire e di rispondere alle richieste con un'offerta che sia sempre più completa e interdisciplinare. Direi che a Firenze si sta verificando questa situazione, è un po' una tempesta perfetta perché ci sono tre istituzioni AFAM abbastanza raro.